Ehi, forza! Ci sta mettendo troppo! Calma, Sammy! È quasi ora! Hanno detto alle 10 in punto! Mancano 15 minuti! Sammy, vedi? È qui! Sbrigati, sbrigati! Ecco le tue belle cuffie, signor! Loro sono in ritardo! Ah, beh, sembravano molto più belle nella pubblicità! Allora personalizziamole! Rog, dove sei? Dobbiamo prima dipingere questi... Hai sempre fretta! Fa' attenzione! Facciamo pratica sulla carta! Ragazzi, matite! Facciamo un disegno per le cuffie di Sam! Disegna la tua versione! Sarai il mio disegno, ne sono sicuro al 100%! Vedremo! Anch'io me la cavo a disegnare! Ok, va bene! Dai un'occhiata alla mia opera d'arte! Il tuo disegno non entra neanche su un lato! Ma allora fammi vedere il tuo! Oh, sì! Scusa! È stato un incidente! Sam, ne faremo uno nuovo! Ragazzi, seguiteci! Ripartiamo! Ehi, guardate cosa ho trovato! Wow! Ragazzi, sono io! Fantastico! Manca solo un dettaglio importante! Oh, ho capito! Hai finito gli occhiali! Grazie! Cosa sto tenendo lì? Non riesco a capire! Un lecca-lecca! Non si capisce! Oh, che buono! Lo voglio, lo voglio, lo voglio! Trasferiamo il disegno sulla tela! Speriamo che Sam lo apprezzi! Ragazzi, sono pronto per la scuola! Voglio sfuggiare le mie cupi! Ho appena finito la prima fase! Come tetro! Speravo in qualcosa di più colorato! Grazie a Timidaba siamo ancora in tempo! Ora usiamo i pennarelli per colorare il disegno! Iniziando da Sammy, proprio al centro della composizione! Anche io farò qualcosa di importante allora! Cos'è? Il tuo disegno è già colorato? Guarda qui! Ho scelto i colori per il lecca-lecca! Vediamo! Hai proprio dei bei colori! Non so quale scegliere! Questo è il mio preferito! Allora è deciso! Oh, che bello! Li userai? Ehi, non ancora! Non sono soddisfatto dell'aspetto! E se dipingiamo lo sfondo, intanto? Oh, perfetto! Dovrebbe quasi ringraziarmi! Ma in realtà ha dimenticato un'altra cosa! La farò io stesso! Aha! Qui! E qui! E qui e lì! Ah, fatto! Ora l'immagine è perfetta! Aggiungo anche un contorno per dare un po' di volume, se non ti dispiace! Fatto! Riposiamoci un po'! Ragazzi, non scappate! Ho sognato delle cuffie fantastiche, ma alla fine ecco il risultato! Sammy, non abbiamo finito! Aspetta! Dobbiamo colorare anche gli altri lati! Ragazzi, qui ho altri pennarelli! Scegli pure! Prendiamone uno a caso! Questo! Ah, grande! Ho un'idea fantastica! Wuhuu! Va bene! Lo scopro alla fine! Wow, meglio che controlli Sam! Oh, Roger se n'è andato! Sei sicuro? Allora è il mio momento! Ah, sto per fare qualcosa di super fantastico! Guardati qui! Aha! Beccato! Che stai tramando? Ehi! Non stavo complottando! Solo ho decorato un po'! Tra l'altro è venuto benissimo! Sammy, torna qui! Wow, sono qui! Lo so, lo so, sono un po' in ritardo, ma ho una scusa! Stavo facendo i bagagli! Proviamoli! Che ne pensi? Ah, 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 ah! Non sono ancora abbastanza brillante! Allora il cappello magico sceglierà altri colori! Ok, ho preso il più luminoso! Aspetta, mi serve la bacchetta! Ah, 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 ah! Vediamo se Roger è in grado di gestire i miei trucchi magici! Ah, 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 ah! Io prendo questo, invece! Ah, 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 ah! Un vero mago lavora con tutto! Ah, 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 ah! E una bacchetta magica sia! Forza! Uno, due, tre! Vediamo! Batuffoli di cotone? Ma... Ah, ah, ah! Hai pallito, Roger! Fortunatamente so come usarlo! Ok, di nuovo! Uno, due, tre! Stavolta dovrebbe essere un giocattolo! Ma dai! Roger, non sei pratico! Insomma, da me le basta! Ci sarà un pennarello qui dentro? Ah! Andiamo! Oh, finalmente! Il giallo può andare! Hai fatto un tale casino! Sì, uno sarà contenta! Beh, opera tua! Ti aspetto le luci! Non sto scherzando! Rob! Capito! Bene, amici! Coloriamo! Oh, Sam! Ragio, sono stanco! Ho bisogno di riposare! Ho tanto sonno! Certo, Sammy! Ti rimbocco le coperte! E voi restate con noi! Sammy! 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 Svegliati! Roger, sei tu! Ho disegnato i contorni della cuffia mentre dormivi! Oh, allora è il momento di Saint Magnifique! Colorerò tutto ammirato! Aspetta, usiamo i pennarelli, non la vernice! Oh, guarda questi colori! Concentriamoci su queste tonalità! Oh, oh, oh! Allora, questa è la cancello! L'abbiamo già usata! Ok, prendo il pennarello giallo! Quindi cancello anche il giallo! Ed ecco il mio preferito! Il rosa! Fammi colorare con quello! Assolutamente no! Ho iniziato tutto io! Non è vero! Lo farò io! Ho vinto! Il pennarello rosa è mio! Ah, ma non potevi prevederlo! Guarda un po'! Boom! Senza pennarelli! Non male! Proviamoli su di me! Ehi, ma sono le mie cuffie! Ridannele! Sammy, scherzavo! Non abbiamo finito! Rivestiamo le cuffie con il Mod Podge! Così i colori non sbiadiscono! Poi dobbiamo farle asciugare, giusto? Wush, wush! Sammy, aspetta! Mi colpirà in testa! Ok, allora faremo così! Ancora e ancora molto meglio! Vediamo! Sì, fantastico! Si è asciugato! Dobbiamo lucidarli per aggiungere un po' di brillantezza! Brillerà da far male agli occhi! Sammy, un giorno lucido anche te! Assolutamente no! Io sono già lucido! Anzi, devo prepararmi per la scuola! Dammi le cuffie! Che te ne pare di questo? Oh, mi piace! Il colore, la forma e tutto il resto! Pensavo... Meglio che tenga queste cuffie per me! Ehi, fermati! Quelle sono mie! Te le farò provare più tardi, forse! Dovrai dipingere delle cuffie anche per su! Rose, Rose, salvami! Nascondi subito le cuffie! Cosa? Ma volevi metterle in mostra? Ora le vogliono tutti! Non sono mai stato qui! Dove è andato? Facciamoci fare le stesse cuffie! Ok, non è qui! Continuiamo a cercare! Oh, corri Sammy! Corri! Io intanto testo le cuffie! Ci vediamo ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!